Ok, dovreste vederla, quindi trasformazione digitale e open government, quindi due temi chiave, la trasformazione digitale non la ripetiamo perché immagino che insomma siete già ad un livello abbastanza avanzato del vostro percorso, open government è un po' il tema della parte di quel focus che lascio alla fine, che però è un po' il dolce sinfondo. Una panoramica delle questioni giuridiche, quindi effettivamente sarà una panoramica e ecco qua vi lascio un po' i miei riferimenti, se avete piacere poi di rimanere in contatto, visto che io sono molto molto attivo sui social, in questi giorni stiamo trattando ad esempio il tema dell'intelligenza artificiale, della proprietà intellettuale, dei diritti d'autore sui contenuti creati con sistemi di intelligenza artificiale, perché è un tema secondo me molto sfidante, molto intrigante anche da un punto di vista puramente filosofico, perché ci si deve chiedere se l'atto creativo è ancora una prerogativa esclusivamente umana oppure sta diventando qualcosa davvero alla portata anche della macchina e lì nascono tutta una serie di... E poi nella prima parte, collegandomi a questo, del tema del chat del GPT-3 Esatto E dell'impatto appunto che questo può avere proprio in ottica di chi sta eccitando Esatto, ma infatti così colgo lo spunto che avevi lanciato tu prima, no? Il fatto che noi stessi stiamo, noi come esseri umani stiamo facendo fatica a star dietro davvero all'accelerazione che la tecnologia ci sta mostrando in questi ultimi anni, per cui ogni praticamente sei mesi hai una nuova tecnologia che è potenzialmente rivoluzionaria, impattante e impatta anche sul mondo del lavoro ad esempio, no? Quindi questa cosa qua dall'intelligenza artificiale che rischia di mettere, di rendere obsolete molti soggetti, molti lavoratori che erano lavoratori intellettuali, che quindi sembravano quelli al sicuro, no? Dall'automazione, invece no, adesso mette in crisi anche quel tipo di mercato lì Quindi io non sono un sociologo del lavoro, un economista, sono un giurista, mi occupo principalmente di proprietà intellettuale, però anche sul piano proprietà intellettuale è interessante Però ecco questo per dire, cogliere questo spunto per dire che noi giuristi facciamo davvero fatica a star dietro perché il giurista già di suo, un po' come Fornamentis, arriva in ritardo Insomma io sono figlio a mia volta di avvocato e ho visto cosa vuol dire fare l'avvocato in senso invece più classico, no? L'avvocato di provincia che cerca di occuparsi un po' di tutti i temi, che segue i clienti anche piccoli, che va in tribunale tutte le mattine per vedere gli adempimenti di cancelleria Un mondo che io conosco perché l'ho visto in famiglia, ma non l'ho pratico, non l'ho mai praticato Però vedo quanto c'è distanza, però un conto è la distanza tra me e mio padre che è anche generazionale ed è anche comprensibile Il problema è quando perdi il colpo tu che hai 40 anni rispetto a quello che ne ha 38-37 E lì c'è davvero la sfida a dover continuamente stare al passo Ma detto che al di là dello stare al passo come esseri umani c'è proprio un problema di stare al passo come sistema giuridico Cioè chi fa le regole, che sono i legislatori ma anche potremmo dire i giudici, le corti che fanno giurisprudenza Soprattutto nei paesi anglo-americani in cui pesa di più il ruolo del giudice come creatore di principi giuridici Davvero si fa fatica perché per trovare le regole con cui si disciplina un fenomeno Dobbiamo aspettare che questo fenomeno prenda una forma abbastanza stabile Qua abbiamo a che fare con fenomeni che davvero accelerano e vanno ad una velocità e cambiano, si adattano con una velocità tale Per cui appunto il mondo dei ritori rimane indietro Se poi parliamo dell'aspetto puramente legislativo La legge ha i suoi tempi e quello è frutto delle garanzie che i sistemi democratici hanno ottenuto in secoli di storia Quindi è una cosa buona che ci voglia tempo per fare le leggi perché vuol dire che vengono fatte con tutte le garanzie Tutti gli equilibri che le costituzioni di stati democratici provvedono Però effettivamente se ci metti un anno, un anno e mezzo per tirar fuori un testo di legge o una direttiva europea Ovviamente stai uscendo con un testo che probabilmente è già vecchio Lo vedremo con alcune direttive che abbiamo, che ho nelle slide, che vedremo nelle slide Un appunto classico esempio, la direttiva copyright Adesso si parla tanto di questa nuova direttiva copyright Ma la direttiva copyright che noi chiamiamo nuova è del 2019 E il suo testo ovviamente se è stata approvata nel 2019, aprile 2019 vuol dire che era in giro da almeno un anno Quindi la bozza su cui si è discusso è stata scritta nel 2018 almeno E non le chiamiamo nuova perché effettivamente la più nuova che abbiamo è stata recepita dal legislatore italiano nel 2021 E quindi effettivamente è vecchia, per il giurista non è vecchia ma per la tecnologia è vecchia Cioè dal 2018 ad oggi pensate che cos'è successo Ma pensate all'accelerazione che c'è stata ad esempio con la pandemia Tutte l'attività didattica online Nel giro di due settimane ci siamo trovati chiusi in casa con i professori della scuola I maestri, i professori di scuola media a dover fare lezioni utilizzando piattaforme che fino a quel momento non avevano utilizzato E che ovviamente innescano problemi anche di copyright, anche di privacy Perché non è... Cioè da un lato sono semplici da utilizzare Però non funziona che allora facciamo lezione su Facebook Facciamo lezione su Twitter o su un'altra piattaforma Su Google Workspace che all'epoca non era ancora pensato per la didattica a distanza Quindi si innescavano una serie di problemi per cui ci si è dovuti interrogare su quali fossero le nuove sfide Da accettare e da affrontare anche per il mondo giuridico E adesso nel giro di pochi anni ci siamo trovati ormai a dare per ovvio alcune prassi Come questa, a fare lezione Io ho seduto nella mia stanza e voi lì in una sala in Veneto dall'altra parte Io sono molto lontano tra l'altro Anche se sono lombardo, non mi trovo in Lombardia ma sono in Sardegna in questo momento E quindi, capite, una cosa che solamente qualche anno fa sarebbe stata un po' Non so se riusciamo a farla, invece adesso è la norma Detto questo, senza perdere troppo tempo Il diritto, vedremo, è in rincorsa Io volutamente ho scelto in questo percorso solo i testi normativi che sono già approvati Anche se alcuni molto interessanti sono in fase di approvazione Quindi abbiamo le bozze che probabilmente non cambieranno più, probabilmente Ma non si sa mai, quindi io, visto che già di roba ne abbiamo tante Di carne al fuoco ne abbiamo tante Mi sono limitato a quelli che siamo sicuri che sono già definitivi e sono già approvati Se volete, poi vi farò vedere in una slide, potete andare a cercare anche quelli che sono in fase di approvazione Ed è interessante seguire il dibattito politico e le varie limature sulle bozze Perché si capisce come si continua a limare perché il fenomeno sta cambiando Va bene, detto questo